questi sentimenti comuni. Sono molto contento che stasera al meeting antirazzista si sia in molti, in questa ventottesima edizione che parte stasera, un'edizione di cui c'è ancora purtroppo molta importanza, sapete in queste ore c'è una discussione che sembra assurda sul diritto di cittadinanza per i bambini e per i bambini figli di genitori migranti e io credo che da questa serata possano uscire tanti stimoli con cui ritornare a casa, con cui pensare, con cui raccontare anche quello che ci abbiamo sentito. Io concludo dicendoti davvero che la nostra associazione è e continuerà ad essere alto fianco, con grande solidarietà. Grazie per essere così numerosi e numerosi, è un grande onore essere al meeting antirazzista di Cecina dell'Ari.